Stamattina mi sono svegliato con un unico pensiero, io alla motoshop 2000 e venire a vedere l'AMOS LRR di persona Poi venendo dal modello 2016 quindi con già dei cavalli di 200cc di circa Questo qui ha comunque un motore molto interessante, un motore da 207 cavalli a 13.500 g Finalmente troviamo la sospensione elettronica anche sul mono posteriore Non vedo l'ora di provare le 4 giugno in pista con il test drive BMW, ci sarà tanto da scoprire, veramente veramente molto bene Grazie mille!